ciao a tutti benvenuti in un nuovo video dedicato alle lor surprise o qui lano la nuovissima lor surprise o mg dance 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 e lei è miss royal l'altra volta ho fatto la recensione della sua amichetta questa qua mayor lady e infatti vi dissi che se riuscivo a trovare la miss royal l'avrei presa perché mi piaceva molto poi le altre due di questa serie sono big girl e virtual anche questa volta abbiamo la scatola a forma di televisione e anche qui abbiamo diciamo l'effetto della nostra bambola che balla come se muovesse il ventaglio molto molto carina adesso vediamo la bambola eccola qua eccola è davvero stupenda vabbè tolgo della scatola così la vediamo bene la scatola vedo poi vi faccio vedere la scatola in effetti lei rappresenta un po maria antonietta quindi le loro stanno sempre super legato eccola qua vediamo prima la bambola e poi vediamo i gadget allora il viso è molto particolare vabbè qua vediamo una leggera ombra di maschera che poi diciamo la maschera apparirà nel momento in cui andremo ad utilizzare la pila ma questo vediamo dopo allora lei ha questo rossetto fucsia e questo cuoricino sulla guancia questi capelli è un po particolari lille rosa dietro tutte trecce molto particolare si indossa questo vestito è proprio da damgella ecco per me lei rappresenta maria antonietta quando era giovane ecco molto bello tutti questi nastrini molto corto tutti i fiocchetti che proprio minibulla con questo le parigine molto molto belle con queste scarpe molto particolare o belle dietro le parigine che belle con tutti i fiocchetti infatti anche la scarpa termina col fiocchetto ma è bellissima davvero stupenda no ma infatti non vedevo l'ora di poterla acquistare mi piaceva davvero tanto questa qua è molto particolare e diciamo una lol diversa dalle altre in effetti allora vediamo i gadget abbiamo la scatolina con vediamo un po allora questa è la pila che dopo utilizziamo gli orecchini e dopo andiamo a mettere perfetto qui abbiamo il ventaglio molto molto bello extra questo penso sia il braccialetto o il collarino e il collarino si sto guardando niente più collerino mettiamo vicino allora poi faccio vedere la base e di questo bel colore rosa poi abbiamo il giornalino vabbè adesso che sta accaduto vogliono due mani altrimenti si rompe allora dalla bustina è uscito questo che mi sembra si mette non mi ricordo devo vedere dove si mette questo qui poi la spazzolino in nera e questo è il suo giornalino miss royal fashion la pose con il ventaglio qui ed eccola ma questa non saprei poi adesso si mette sopra la gunna dovrà che a vedere così sempre di una gunna si può essere allora voglio metterci gli orecchini e il collarino andiamo un po molto bella gli orecchini è forma di fiocco è tutta fiocchi e fiocchettata il collarino il collarino c'è il disegno del cuore allora apro pure la pila così poi la vediamo ecco qua collarino col disegno del cuore cuore a metà o accaduto è caduto ma non amico gli orecchini si ha perso l'orecchino alla vabbè non fa niente mettiamo dopo voglio vedere invece il fatto della pila anche se io mo col flash in effetti utilizzando il flash del cellulare non è molto chiaro ecco sì si vede si vede si vede eccola non so se avrà anche qualche altra caratteristica comunque diciamo la cosa molto principale senza flash del cellulare si vede meglio ovviamente al buio ecco ecco appare la sua maschera bella molto 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 bella mi piace tantissimo ok va bene io spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacione alla prossima ciao ciao